ecco d'ora in poi non dobbiamo pridire che è stato si? vuoi vedere l'elicata? si per che questo tiro giù? ok va perfetto no intanto sto sulla pista arrivo eh ok arrivo eh arrivo 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 fuori è avviso avviso avvicino sta sticc avv Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.